Cosenza, capoluogo della provincia più estesa della Calabria. Così come in Alto Adige, anche in Calabria, nascono numerosi prodotti tipici e di alta qualità per la regione. Accordo tra le Camere di Commercio di Cosenza e di Bolzano con l'obiettivo di promuovere i prodotti altoatesini sul mercato calabrese e allo stesso tempo introdurre in futuro più prodotti calabresi sul mercato altoatesino, in modo che entrambi i territori possano beneficiare di questa promozione. È stata la suggestiva atmosfera dell'hotel San Michele di Cetraro ad ospitare la presentazione dell'iniziativa. Con la Calabria, con Cosenza, la Camera di Commercio di Cosenza, noi siamo complementari, non siamo alternativi. Proprio per questo il concetto mare e monti, credo che potrebbe essere un concetto vincente. Ovviamente bisogna farlo passo per passo, non sarà facile, la strada è in salita, però chi vuol fare e chi è motivato, di fatto anche la possibilità poi di portare a casa dei risultati positivi. Clou della serata, lo show cooking durante il quale i presenti hanno potuto degustare i prodotti di qualità della Calabria e dell'Alto Adige. Le specialità calabresi sono state cucinate dal cuoco Roberto Spizzirri, mentre i piatti altoatesini sono stati preparati dallo chef Luis Agostini. Da oggi in poi un programma per far incontrare le imprese, quindi in modo economico, anche in modo istituzionale della politica, ma principalmente questo scambio non solo culturale, ma anche economico. Sono due realtà completamente diverse, quindi due economie diverse che in realtà possono abbinarsi e in qualche modo al compito che hanno le Camere di Commercio è quello di fare business. Michil Bradelwarter, presidente della Cantina Produttori Bolzano, Walter Pardaccer, direttore generale del Consorzio delle Cooperative Orto Frutticole Altoatesine, Paul Jörg, responsabile vendite di Recla SRL, Werner Graham, amministratore delegato di Graham SPA e Federico Giudice Andrea, presidente di Assos Imprenditori Bolzano, sono stati gli imprenditori altoatesini che hanno preso parte all'iniziativa delle due Camere di Commercio.